Hanno infettato un virus dentro Minecraft. Fate molta attenzione perché tutte le mod sono state infettate da un virus che si innesca dentro al vostro computer ed è in grado di rubare tutte le informazioni che hai sul computer tutti gli account che hai. Hanno già contattato la Mojang per cercare aiuto e risolvere questo problema ma per ora tutti i giocatori sono scoperti e vulnerabili e possono essere colpiti da questo virus che è stato fatto in modo che si può espandere da giocatore a giocatore. Tantissime persone hanno perso tutte le loro password e tutti gli account che avevano quindi se giocate a Minecraft o avete degli amici che giocano a Minecraft è molto importante che facciate attenzione. Fortunatamente poter fermare questo virus è molto semplice basta che guardate il video completo che ci ho fatto a riguardo per sapere tutta la storia.